Gianluca Cirignoni, consigliere regionale in quota alla Lega Nord, Umbria E45 e E78. Si torna a parlare di queste due grandi arterie. Nel decreto sblocca Italia ci par di capire che è stata inserita la trasformazione in E45 in autostrada, mentre sembra che la E78 non sia stata inserita. Queste sono due arterie importantissime per l'Alto Tevere che a nostro avviso debbono rimanere pubbliche e gratuite per i nostri cittadini. Questo è il punto principale. Poi c'è da dire che sulla E78, nonostante i toni trionfalistici con i quali il sindaco di Città di Castello e l'assessore regionale Rometti di ritorno dal pellegrinaggio a Roma ai primi di agosto annunciarono che la E78 sarebbe stata inserita all'interno del decreto sblocca Italia, così come gli aveva assicurato il viceministro Nencini. Siamo arrivati a settembre e abbiamo visto che quella era una bufala, infatti nel decreto sblocca Italia non viene menzionata assolutamente la E78. Quindi questo getta un'ombra un po' scura sul completamento di questa strada che da oltre 30 anni è oggetto di tante parole e annunci ai quali seguono pochi fatti. Il nostro punto è anche un altro. Siccome il 18 settembre pare, a questo punto utilizziamo questo tipo di verbo, pare che verrà costituita la società di progetto, raggiunga il danno di costituire una società pubblica la quale servirà solamente a dare lauti, premi e stipendi ai dirigenti regionali coinvolti e anche a quelli statali. Ecco, questo è un punto. Noi ritorniamo a ribadire che in accordo anche con quello che dice il comitato Apriamo la Guinza che ha già raccolto oltre 2.500 firme nelle valli che vanno dalla Valle del Metauro, Valtiberina Toscana e Alto Tevere Umbro che chiede che la Galleria della Guinza venga ammodernata, messa in sicurezza, completata, collegata alla viabilità ordinaria in maniera moderna e aperta al traffico. Questa sicuramente sarebbe una soluzione che si potrebbe fare con molta minor spesa, un obiettivo sicuramente raggiungibile e spero che questo governo che sembra che ogni volta si richiama al buonsenso, al fare, prenda atto anche di questa proposta. Torniamo a parlare di quello che è stato detto prima delle elezioni amministrative ed europee. Sembrava che ci fossero veramente le basi per far sì che la E78 venisse alla luce. Qualcuno l'ha bollata come propaganda elettorale. Vedrete che nelle settimane e nei mesi successivi la E78 non verrà assolutamente inserita in alcun progetto presentato dal governo. Di fatto anch'io stesso ho sempre alzato a questo punto questa questione perché purtroppo questa strada è stata il completamento di queste importanti arterie è stato spesso utilizzato ai fini solo di campagna elettorale e per fare dei passaggi magari nei giornali di Masmedia, dei passaggi trionfalistici che poi la montagna ha partorito il topolino. Ribadesco la problematica per l'Alto Tevere, per la Valtiberina Toscana, per le valli interne del Metauro che sono valli che tra l'altro hanno storia in comune, hanno anche un tipo di economia in comune, un'imprenditorialità in comune. Ricordo che ad esempio la zona di Fermignano quindi che è poco distante da noi anche se è separata dal valico di Boccatrabaria che è arduo per tutti e che invece con l'apertura della galleria o con la realizzazione delle E78 diciamo sarebbe una zona vicina quanto quella di Arezzo all'Alto Tevere quindi verrebbe collegata tutto bene alla terza zona industriale della provincia di Pesaro. L'Alto Tevere era e ancora è una locomotiva imprenditoriale, la Valtiberina Toscana assomiglia con riuscire a collegare questi territori e abbiamo una galleria che è costata a volte 350 milioni di euro di 6 chilometri con altri 4 chilometri di superstrada fatta e finita e abbandonata e purtroppo vedere che deperisce ogni giorno di più, si degrada e alla fine probabilmente speriamo di no ma crollerà anche, insomma ci fa appoggiare convintamente proprio quello che propone questo comitato, il comitato di apriamo la guinza, quindi di utilizzare perlomeno quello che già c'è. Come disse tra l'altro, io lo ricordo bene, anche il presidente Spacca della regione Marche quando dopo che lo facemmo noi nel 2009, quando dopo che lo facemmo noi la provincia di Pesaro e quella di Perugia a spese dei cittadini organizzarono sul posto nel traforo marchigiano nell'entrata marchigiana del traforo organizzarono una manifestazione, il presidente Spacca davanti al traforo lo ricordo benissimo, il presidente De Marche disse che nell'emore della realizzazione di questa strada e parliamo già di tre anni fa, nell'emore della realizzazione del completamento della strada bisognava mettere a disposizione dei territori e delle popolazioni le strutture già realizzate Ricordo anche che la guinza e il lotto della guinza erano un lotto funzionale ciò significa che c'è anche uno spreco di denaro pubblico sulla mancata apertura di questa infrastruttura perché essendo un lotto funzionale aveva proprio la sua caratteristica era quella di essere realizzato prima degli altri proprio perché nel caso gli altri non fossero stati completati aveva e dà le caratteristiche per essere messo subito a disposizione dei territori